Musica Signora, com'è il cibo? Buonissimo Cosa avete assaggiato? A vero, mozzarella di bufala fatta qui, lì Poi abbiamo preso i tortelli di patate di Mugello Arrosticini di pecora e adesso continuiamo Un giro d'Italia completo direi Per quello andiamo, sì Che cosa state cercando? Da mangiare, perché a quest'ora... Tanti della cucina tipicamente romana Di dove siete? Di Catania Guardavamo sulla mappa e abbiamo... Però l'abbiamo capito dove è 103 Sì, dobbiamo andare in fondo, in fondo Allora, buona caccia Grazie mille Ciao Ciao Ilaria Una bellissima cosa leggiamo Scuola di cucina Ci spieghi di cosa si tratta? Allora, si tratta di un'iniziativa di noi cuochi contadini Che non so se si conoscete Ma siamo appunto prima contadini e poi cuochi Quindi abbiamo tutte aziende agricole Produciamo quello che poi andiamo a cucinare Questa è la nostra scuola di cucina Dove in questi tre giorni ospiteremo tutti chi vuole partecipare Ed è bellissimo perché abbiamo italiani, stranieri, meravigliosi Beh, questo è il bello di Roma E cuochi che si alternano, appunto cuochi contadini Che si alternano da tutte le regioni d'Italia Con le loro specialità Dalla Puglia, alla Calabria, alla Toscana Se non so se si sente dall'accento Appunto abbiamo ora finito il risotto alla milanese Quindi Lombardia E diamo il benvenuto a tutti i nostri ospiti E siamo qui ad aspettarli per insegnare Non tanto i segreti della cucina Ma quanto i segreti dei migliori ingredienti Che possiamo trovare Stagionalità, località E la ricetta viene da sola Senti, siamo in autunno Quindi qual è il piatto della stagione? Beh, allora guarda È un autunno un po' anomalo Perché abbiamo un caldo abbastanza importante Però abbiamo fatto un meraviglioso risotto alla milanese Che è un piatto nazional popolare Poi faremo dei meravigliosi pisci alla Ione E quello è un prodotto mio toscano Per cui ne vado fiera e orgogliosa Abbiamo le pallotte cascio e ova Abbiamo fatto un po' di fine stagione Una parmigiana di melanzane Puoi scegliere Sembra Masterchef, lo posso dire Cioè veramente i banconi così C'è proprio il tempo C'è una gara? No, no Non facciamo le gare E la cosa bella è che ognuno cucina poi quello che mangia E a volte sono moglie e marito Quindi c'è la disfida in famiglia A volte sono mamma e figlio C'è la disfida sempre in famiglia Però no, no Non diamo voti Diamo solo suggerimenti Però è bellissimo Perché vedi sempre tutti molto contenti Mi hai detto Gli italiani, stranieri Chi è che cucina meglio? Allora Gli stranieri Gli rimane stanno usati Quanto olio di extravergine di oliva Se usano olio Noi praticamente in un giorno Si è già finito Più di 24 bottiglie d'olio E gli vedi Noi che gli fai No, metti olio No, metti olio Però Gli rimane un po' strano L'olio di extravergine di oliva Detto questo però Stanno molto attenti Perché comunque cercano veramente Di capire Qual è il pregio nascosto dietro ai nostri piatti Io ripeto che a volte È la mera semplicità Perché è quello che siamo Io ho avuto l'opportunità quest'anno Di andare a New York Per la prima volta Appunto per Coldiretti E là non esiste la stagionalità Quindi là trovi la fragola 365 giorni l'anno Però puoi capire che quella fragola Non ha un sapore da dare Invece qui c'è le fragole A partire da quelle della Basilicata Poi mano a mano Per la stagione Che sono meravigliose Cioè tu puoi mangiare la fragola Staccata dalla pianta Che ha un sapore Stanno imparando Stanno imparando È un work in progress Work in progress Allora viva il cibo italiano Ancora più buono se fatto da sé Viva il cibo italiano Viva la cucina italiana Che è appunto candidata Anche a patrimonio dell'UNESCO E ci sta E soprattutto quello che vi ricordo Territorialità e stagionalità Siamo con Stefania E Clara Ciao ragazze Ciao ragazze Da dove venite Cosa proponete qui al villaggio col diretti Veniamo da Vetralla Provincia di Viterbo E proponiamo vari tipi di olio Tipo? Faccio un esempio Coltura Dop, tuscia E caninese Senti qual è la particolarità del vostro olio? Beh diciamo che sono tutti ottimi oli Poi bisogna vedere insomma cosa piace Perché magari non tutti piace un sapore forte E quindi proponiamo un olio più delicato come il Coltura Senti io l'ho assaggiato nella bruschetta Era davvero ottimo Tu lo consigli su quali altri tipi di prodotti? Su ogni cosa Guarda abbiamo il Coltura Che può essere usato per cucinare Anche sull'insalata Quelle altre due diciamo Possono essere usate anche col pesce La carne L'insalata Dipende poi dal gusto Senti si parla molto dell'olio In questo periodo per i rincari C'è tanta gente qui oggi Ti vogliamo chiedere Quanta affluenza c'è? Quanta gente si è affacciata a chiedere i vostri prodotti? Abbiamo avuto tanta richiesta Soprattutto dell'olio nuovo ovviamente Che ancora non abbiamo disponibile Però abbiamo anche venduto Diciamo non ci lamentiamo Perfetto Allora non ci resta che intingere un po' di pane In quest'olio buonissimo E niente Un ultimo consiglio? Da tavola? Non lo so Assaggiamo e basta Per comprare insomma il nostro olio Che è fantastico Anche quello nuovo Vi aspettiamo anche in frantoio Per delle visite Grazie a tutti Grazie a tutti.